Bene, no ho sbagliato, bene, inizia anche qui, inizia l'ultimo livello di Harry Potter e il calice in fuoco, o meglio si spera l'ultimo, o meglio io lo voglio finire. O meglio non si spera perché a me piace però mi piace sempre cominciare un nuovo gioco, vabbè intanto pensiamo a fare questo, ecco il labirinto. Il labirinto è un labirinto, ma va, erice, mi sa che quello che ho appena detto era una battuta un po' stupida, mi sa, ahia maledette, maledetti cosi ma qualcuno dovrà tagliare la stai, erba Vi chiedo perché non ci passa, io passerei con un... a con tagliare arpa e ci si attiva il paccio aia mi hanno fatto male maledetto il paccio daia mi stanno facci sto perdendo pure la pazienza si l'appi forse grazie per avermi coperto il sedere ho parato come preferisci via 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 aia mi sono fatto male aia mi ha appunto pure il sedere aia ancora appunto il sedere mi sta prendendo frustate presto 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 salviamoci a me o mai quella l'ho scrivata dai vai 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 dai henry corri corri come forest ok affio scrivata dai vai vai ok dai vai e vai ce l'ho fatta yoohoo succhiate me lo piantacce del del cavolo del pene delle pokeball delle energie asferiche di quello che vuoi aia mi hanno fatto male aia 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 mi hanno ucciso è per questo che ho detto che è lungo so se che so so che sarà molto difficile a parliamone ragazzi 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 ha ha prendete questo prendi questo prendi questo prendi questo aia mi avete mancato tutte e due mi avete mancato tutte e due prendi questo prendi questo prendi questo prendi questo prendi questo ma che sto mirando vai 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 questi sono un po' difficili da uccidere anzi posso colpire muore 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 dalle azione mi ha fatto male no dannazione ho fallito anche stavolta prende questo avvia avvia dannazione non vedo più niente ahahah maledetto vai non so che non so che fare cosa è meglio fare ok ma hai detto dove schivarlo ok ok prendi questo ti piacciono tutte ste botte ok non mare avvia ok li sto facendo molto male attenzione bisogna stare attenzione a non andare sui rovi ok prendi questo prendi questo no maledetti figli di vacca di figli di stecco di vacca che appena fatta maledetti figli sì ma non abbiamo tempo per voi colpissio a me o male l'ho scrivato e vai te l'ho fatta ok miriamo questo e vai fuori uno liscio come on sei un babbero ok ora ti uccido fatto e facciamo fatta ok anche questa è andata insieme ok ok ho preso bronzo mi sa che volta l'ultimo livello è non bisogna prendere nessuno scudo spero aspettate ragazzi ecco il prossimo gioco che faremo harry potter è l'ordine della felice ok ok aspettate aspettano ok 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 e quindi e quindi adesso faremo l'ultimo livello l'ultima parte dove dovremo pestare voldemort l'ultima parte l'ultima parte è il l'ultima parte è il quello che è il l'ultima parte il Dai su sbrigati Ottimo Ma chi sono questi due Iziotti? No dai scherzo So chi sono Col cavolo Questo qui fa seriamente Vediamo quali magie da scolaretto Hai imparato Un classico Invocare degli stupidi zombie Adesso ammazzo Questi zombie del pene Guarda ti spaccheri il naso Ti spaccheri il naso se tu ce l'avessi uno Quindi sta zitto Prendi questo Prendi questo Ma vuoi morire una seconda volta Perché morire una volta sarebbe Tecnicamente sbagliato Mor 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 Ha ha Bravo Harry I tuoi genitori sarebbero orgogliosi Non è facile eh Io ti spaccheri la faccia Se potessi eh Quindi non mi provocare Vuoi esplodere Beh Pr 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 Grazie a tutti.